qui ho 200 grammi di biscotti secchi e adesso li vado a tritare. I biscotti sono stati ben tritati, adesso aggiungiamo 90 grammi di burro, mescoliamo, versiamo il composto di biscotti e burro dentro una teglia da 22 cm di diametro. Distribuiamo per bene sul fondo e pressiamo. Mettiamo in frigorifero a rassodare. All'interno di una bowl bella grande aggiungiamo 150 di formaggio spalmabile, 250 di mascarpone, due yogurt a limone, quindi 250 grammi di yogurt a limone, 150 grammi di panna già zuccherata. Qui ho 11 grammi di gelatina. Adesso mettiamo l'acqua e lasciamo ammorbidire per almeno 10 minuti in acqua fredda, mi raccomando. Aggiungiamo una fialetta di essenza di limone. Ed ora montiamo il tutto. Aggiungiamo 100 grammi di zucchero a velo. Strizziamo la gelatina ormai liquida, morbida. Dopodiché aggiungiamo 3 cucchiaini di acqua e facciamo sciogliere la colla nel microonde oppure sul gas, sino a quando diventa completamente liquida. Aggiungiamo la colla liquida nella nostra farcia e amalgamiamo il tutto. Versiamo la farcia sulla base di biscotti che ormai si è indurita. livelliamo. livelliamo. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.